Nell'introduzione alla filosofia abbiamo visto che Rosmini espone i fini per i quali egli compose opere filosofiche e quindi in modo indiretto abbiamo anche visto qualche cosa della sua concezione della filosofia stessa. Rosmini espone i fini e anche i mezzi del suo filosofare. Ma in questa quarta lezione ci occupiamo di un altro argomento. Voglio leggervi subito come questo argomento viene introdotto dall'autore. Abbiamo narrato nelle due parti precedenti quello che abbiamo fatto o che abbiamo avuto intenzione di fare. A compimento del discorso rimane ora da dire quello che non abbiamo fatto e che non si può fare con le letterarie fatiche e studi. Quello che si contiene nei libri nei quali non si può trovare altro che scienza non è né il tutto né il meglio dell'uomo. O i libri trattino di quelle cose di cui non essendo autore l'uomo solamente da lui si contemplano o di quelle le quali essendo nella potestà dell'uomo da lui non solo si contemplano ma anche si fanno. Che è la potestà che è la potestà che ha l'uomo di farle e le stesse azioni con cui egli le fa come pure tutte le altre realtà da lui percepite né sono scienza né possono nei libri racchiudersi. La stessa natura le esclude dalla scrittura e le colloca al di fuori della scienza alla quale le scritture richiamano, dirigono come segni indirizzando il pensiero. Con questo incipit della parte terza degli studi dell'autore entriamo già subito in medias res. Rosmini tenta di esporre l'idea della sapienza. L'idea della sapienza non poteva mancare da un'opera introduttiva alla filosofia. E tra l'altro, come sappiamo tutti, la sapienza è legata anche solo etimologicamente alla filosofia. Questo amore della sapienza secondo la lingua greca. Rosmini già qui chiarisce la sua posizione, come abbiamo letto. Esiste un mondo reale che sta esattamente al di fuori dei libri. I libri contengono scienza, ma non possono né mai potrebbero controllare o in qualche modo sostituirsi alla realtà. E vedremo che la sapienza viene collocata quindi nel mondo reale, nel mondo dell'azione. Un primo aspetto su questo tema da richiamare è la critica forte che Rosmini muove agli idealisti. Gli idealisti del suo tempo, secondo Rosmini, avevano soprattutto nei grandi sistemi, nella potenza diciamo sistematica e teorica di Kant e di Hegel, l'avevano finito col annientare, diciamo, con l'omettere totalmente il rapporto con la realtà, riducendo tutto a astrazione. Ciò che il pensiero contempla esiste, esiste così come il pensiero lo contempla. Il pensiero è attività soggettiva, quindi tutto è nelle mani del soggetto. Questa, diciamo così, abnorme concezione che però in fondo Rosmini imputa appunto agli idealisti. Quindi un aspetto importante per il filosofo è sempre questa sua capacità di radicarsi fortemente nella realtà. Nonostante la grande potenza, la forza di coinvolgimento della scienza, rimane sempre, Rosmini questo lo evidenzia, rimane sempre una vita vissuta nel mondo reale. Una vita, quindi fatta di azioni concrete, fatta di persone ovviamente nella loro realtà. A questa realtà la scienza rimanda, chiaramente, ma mai può sostituirsi ad essa. Ora, il vizio, diciamo, dell'astrattismo può essere ricorrente anche ai nostri giorni. Ci sono autori, sistemi anche magari di autori importanti, che propongono delle idee che sono idee irrealizzabili. Ecco questo qual è il vizio, cioè sono idee astratte, cioè idee che non hanno attualizzazioni. Quindi sono alcune proposte filosofiche, uno sradicamento in fondo dalla realtà, una deviazione, forse anche una fuga in alcuni casi. Ancora di più, questo negli scritti degli idealisti dell'Ottocento, con i quali si misurò Antonio Rosmini. Ora non abbiamo tempo di leggere, però Rosmini proprio puntualizza alcuni passaggi in cui c'è questo scivolamento verso l'astrattismo da parte di questi razionalisti, idealisti appunto. Il riferimento è sempre in primis a Kant e a Hegel. Io vorrei sempre, per introdurre anche alcuni aspetti fondamentali di una filosofia, una filosofia poi così più corposa da vedere poi più nel dettaglio di Rosmini, vorrei contrapporre a questo vizio dell'astrattismo invece la proposta filosofica rosminiana, da questo punto di vista. Cioè di una teoresi che si radica poi nell'essere sperimentabile. Quindi questo contributo prezioso è anche, potremmo dire, dovuto da un filosofo che proponga delle idee che siano poi tangibili, che aiutino nella vita, nell'esperienza, non solo nell'intelligenza dell'esperienza, ma anche nella vita pratica. questo aspetto, che poi è un aspetto della verità stessa e che poi è un aspetto per cui filosofia è anche sapienza, questo aspetto di collegamento tra, in pratica, la persona e le idee di una filosofia trovano una conferma appunto nella triplice forma dell'essere proposta da Rosmini. Questa, diciamo, contributo originalissimo del pensiero rosminiano sembra naturalmente di primo acchito un qualche cosa di, ecco, un po' difficile, un po' alieno dal nostro modo di pensare. Ma io vorrei qui sottolineare appunto al contrario che si tratta, pur essendo un vertice, il vertice della teosofia, della speculazione di Rosmini, quindi, pur essendo l'aspetto più alto della riflessione filosofica, non di meno si tratta di un contenuto legato alla vita e alla vita personale, non solo in senso antropologico, intendo a un'autologia che rimane e rimanda, rimane legata al mondo reale, al mondo dell'azione. Ecco, brevemente sappiamo che queste tre forme dell'essere sono la idealità, quindi il regno delle idee, diciamo così, la realità, quindi il mondo soggettivo, il mondo del principio di attività, del soggetto, il mondo della sensibilità, e infine il mondo, la terza forma, la forma morale, che sarebbe quella di considerare l'essere in quanto conosciuto, riconosciuto e dunque desiderato, sempre brevi cenni. Ecco, questa concezione triadica, come scrive Michele Federico Sciacca, dell'essere, trova un po' il suo punto culminante nella forma morale. La forma morale, secondo Rolmini, è quella che unitizza, cioè che crea collegamento tra il reale e l'ideale. Quindi la moralità, intesa in questo senso, la legge del sintesismo ontologico, diventa il punto, diciamo, il finalismo ultimo dell'intero cosmo, dice Rosmini. Questa moralità, questo principio di attività che conosce e che riconosce, abbiamo detto, l'essere reale, non è niente altro poi che la persona umana. quindi il cuore della sistematica rosminiana è la persona umana che realizza questo incontro della cognizione intellettiva con l'aspetto concreto, reale, con l'aspetto della forma reale. Il centro è la forma morale dell'essere. Ma, vedete subito, già da una, ecco, una sintesi sicuramente deficitaria che ho appena esposto, però si coglie già quanto questa sistematica non allontani dal mondo reale, ma anzi punti proprio verso la persona e cerchi di rendere più chiaramente intellegibile, ecco, appunto l'essere nella sua dinamica, nella sua caratterizzazione. questo aspetto di una filosofia che si rivolge alla persona, una filosofia per l'uomo, come abbiamo detto all'inizio, ritorna nell'idea della sapienza. l'idea della sapienza rosminiana non trascura né la parte, diciamo così, di un conoscere, né la parte di un'azione pratica. leggo ancora una citazione. La sapienza ha due parti, le quali però in essa si trovano individualmente congiunte. La prima che è nella mente e questa si separa e col mezzo della riflessione ordinatamente si dispone e allora acquista il nome di scienza che si insegna, si scrive. L'altra parte della sapienza poi è tale che né si insegna dalle cattedre né si può scrivere nei libri e dà la sua propria ed unica sede nell'animo e nella volontà e in tutte le affezioni e le operazioni. E tuttavia ella è quasi la stessa scienza discesa dalla mente trasfusa nella realtà del sentimento penetrata nella vita dove con pieno e beneficentissimo imperio governa. Pertanto due sono le parti della sapienza una che si insegna e che si scrive nei libri e una che né si può insegnare né si può scrivere di fronte alla quale anche Rosmini si ferma e che pure ha dita molto chiaramente è quella sapienza che si realizza nella condotta umana e quindi secondo anche qui una concezione che va a richiamare senza altro e senza dubbio i classici una concezione della sapienza classici che pure Rosmini cita in queste pagine rimanda alle scelte alle operazioni avete sentito qui la citazione agli affetti quindi a ciò che è nell'animo e nella volontà della persona stessa e qui quindi ogni intenzione scientifica si ferma per cedere il passo potremmo così dire alla vita pratica come dicevo questa concezione rosminiana dell'idea della sapienza si contrappone all'astrattismo al razionalismo che invece conosciamo in altri autori e questa concezione rosminiana della sapienza insieme a quella centralità della forma morale dell'essere senz'altro chiama in causa tutta quella principio di personalità che è anche un elemento una nota propria del pensiero rosminiano in altre parole è la persona stessa che risponde e che realizza questa sapienza è quella forma dell'essere morale come dicevamo che riconosce ciò che è meritevole e ciò che vi è di bontà di desiderabilità nell'essere che è stato conosciuto nella sua forma oggettiva e che quindi realizza il momento più importante potremmo dire della dinamica stessa interna all'essere quindi vediamo che effettivamente questa filosofia rosminiana si colora anche di personalismo e si colora anche di realismo proprio per la il rinvio il rimando sempre inevitabile al mondo reale come abbiamo detto potremmo ancora aggiungere un altro elemento su questa sapienza elemento che viene ampiamente trattato anche in queste pagine e cioè il compimento della sapienza umana nella sapienza divina naturalmente Antonio Rosmini apre allarga la sua idea della sapienza anche alla rivelazione cristiana non solo in termini scritturistici ma in termini anche di vita vissuta nell'esempio di chi appunto si ispira al Vangelo questa apertura alla rivelazione è un tratto del sistema filosofico stesso di Rosmini non solo quindi l'idea della sapienza umana si compie nella sapienza cristiana non solo quindi secondo la testimonianza di Rosmini la forma morale dell'essere per eccellenza sarà la carità cristiana la apertura alla rivelazione passa anche nel sistema filosofico stesso così come è configurato dall'autore qui c'è un riferimento che sembra forse marginale ma non lo è per niente il riferimento è al rapporto stretto tra la filosofia naturale e quella soprannaturale i rosmini tra la concezione filosofica e la riflessione teologica di questo ancora ci occuperemo anche nella prossima lezione e con questo invece concludiamo per quanto riguarda l'idea della sapienza e il mondo reale così fermamente richiamato dal nostro autore che abbiamo indicato anche nella nostra grafica qui abbiamo appunto introdotto la terza parte degli studi dell'autore in cui viene esposta l'idea della sapienza abbiamo detto che la sapienza sempre occupa l'interesse attira l'interesse del filosofo il quale altro non è che colui che è amante amico della sapienza abbiamo detto che Rosmini quindi in un'opera introduttiva doveva fare un riferimento a questa sapienza ma la sua è una contrapposizione netta ai vizi e alle storture di un astrattismo che fortemente segnava i sistemi degli idealisti dell'ottocento quindi anche in questa critica all'astrattismo si radica una visione diversa del nostro autore di questa sapienza abbiamo detto una visione per cui due sono le parti di cui essa si compone una che si impara che si insegna che si scrive una scienza diciamo così che sia a livello filosofico o meno anche a livello di cognizione in comune ma poi c'è la seconda parte quella della vita pratica che dice Rosmini né si insegna né si scrive semplicemente si vive nella nella persona nella persona umana pertanto abbiamo visto che il al contrario dell'astrattismo la concezione del sistema rosminiano rimanda offre diciamo delle una speculazione che in qualche modo trova un riscontro nella esperienza e quindi in questo mondo reale e da ultimo abbiamo appena accennato all'apertura alla trascendenza anche nella visione sapienziale di Rosmini perché non tutto è alla portata della sapienza umana il completamento è nella sapienza divina di Grazie.